Questo è un uomo la cui vita dipende dall'automobile. È Rémy Julien, il più grande cascader oggi in Europa. In Europa vi sono 50 tipi diversi di automobili tra cui scegliere. Eppure, negli oltre 100 film sin cui è apparso, Rémy Julien ha compiuto più acrobazie su automobili Fiat che su qualsiasi altro. E la Fiat che ha sempre preferito è questa, la Fiat 124. Un'automobile per famiglia.